Con la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza, torna ad essere centrale il lavoro e il servizio del comparto trasporti, che quotidianamente accompagna gli studenti a scuola. L'organizzazione dei mezzi e le misure messe in campo, spiega il direttore di Adrebus Massimo Benedetti, sono rimaste invariate dal piano attuato precedentemente all'ultima sospensione dell'attività didattica in presenza, fatta eccezione per un'importante novità introdotta proprio a partire da questa settimana. L'agenzia di vigilanza privata La Fenice di Marotta si è infatti aggiudicata il bando di gara emesso da Adrebus per la ricerca di steward con il compito di vigilare e controllare il rispetto del distanziamento e delle norme anti-covid da parte degli studenti nei punti di fermata principali della città, che a Pesaro risultano essere quelli posti in piazzale Matteotti, al campus e presso l'istituto alberghiero e quello agrario. Siamo ripartiti esattamente come avevamo smesso l'ultimo giorno con il provvedimento di sospensione delle attività didattiche, quindi avevamo già un sistema abbastanza rodato, avevamo visto nei 20 giorni, un mese che avevamo, dopo le riprese delle festività natalizie, un sistema che comunque aveva retto, avevamo aggiunto dei servizi di vigilanza alle fermate eccetera. Adesso questo servizio è stato ulteriormente potenziato con delle unità esterne, ci sono circa 10, è una presenza che è sempre di supporto per gli studenti che si apprestano a prendere il mezzo di trasporto pubblico, soprattutto in quei momenti in cui c'è un'alta concentrazione degli stessi. I nostri steward, chiamiamoli così, invitano comunque a mantenere le distanze, invitano a mantenere un uso responsabile, appunto la mascherina, nel contempo danno anche un'occhiata e danno un supporto al nostro personale verificando anche il numero delle persone che salgono a bordo, quindi sono ulteriori occhi a supporto dell'intero sistema. Sono stati aggiunti dall'inizio dell'anno circa 22 autobus aggiuntivi rispetto al programma di esercizio ordinario. Così come avevamo annunciato da tempo, sono entrati in servizio anche gli ultimi che sono arrivati al ridosso delle vacanze di Natale, quindi con la ripresa delle attività scolastiche abbiamo introdotto ulteriori mezzi che, diciamo così, oltre ad essere di più, sono anche nuovi, quindi sicuramente più efficienti e sicuramente anche più confortevoli. Noi abbiamo formalmente e ufficialmente richiesto che anche la categoria degli autobus tra i veri venga inserita tra le categorie che possono con priorità essere vaccinate. Attendiamo naturalmente gli sviluppi, c'è qualcuno che deciderà, insomma, sa quello che deve fare nell'ordine giusto.